Continuano purtroppo gli incendi e a farne le spese è ancora una volta la famosa pineta di Castel Fusano, che purtroppo torna a bruciare inevitabilmente. Gli incendi sarebbero stati applicati all'alba, nonostante la ingente presenza di contingenti dell'esercito per presidiare tutta l'area in questione. Mobilità di ieri dal governo, gli incendiari pensate che avrebbero applicato le fiamme anche addirittura nell'altra pineta di Ostia, quella definita dell'acqua rossa. Da molto tempo le squadre dei soccorsi, i vigili del fuoco sono impegnati ovviamente a spegnere le fiamme che quotidianamente si appalesano in queste parti qua. Quindi la pineta di Castel Fusano è quella di Ostia, acqua rossa. Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto e iscrivetevi, mi raccomando commentate, basta con gli incendi, basta con i ruoli.